Consigliere Blasioli, questa mattina in conferenza stampa avete denunciato quelli che voi ritenete dei ritardi per quanto riguarda la discarica di Villa Carmine. Perché? Ritardi gravissimi per l'ambiente, per il nostro mare adriatico e tutto quello che c'è a valle rispetto alla discarica di Villa Carmine di Montesilvano. Non siamo noi a dirlo, è l'arta. Lo aveva fatto già a luglio dell'anno scorso. Lo ha ripetuto nuovamente con un parere il 25 febbraio di quest'anno, insieme ad Ispra, da cui si è fatta coadiuvare. Mancano le misure di messa in sicurezza di emergenza, il che significa che l'inquinamento perdura ancora in questi giorni. Manca un barieramento idraulico, manca nella parte a nord della discarica un telo geotessile che separi i rifiuti dai terreni. E soprattutto c'è anche il pericolo che questa discarica possa crollare da un momento all'altro, perché i pendi sono oltre quello che è previsto dalla legge. Qui siamo di fronte a un SIR, cioè un sito di interesse regionale. A fronte di questo però ARAP, che è la stazione appaltante individuata dalla regione rispetto ai 10 milioni di euro stanziati dal governo di centro-sinistra, scrive però a settembre del 2020, guardate, a settembre del 2020, noi non siamo competenti ad adottare misure di messa in sicurezza, perché noi siamo competenti soltanto per la bonifica definitiva. Quindi in questo momento nessuno sta lavorando né alle misure di messa in sicurezza né alla bonifica, su cui c'è un altro problema. Arta e Ispra dicono chiaramente nel parere, l'unica bonifica possibile a Villa Carmine è la rimozione di tutti i rifiuti, parliamo di 300 mila quintali di rifiuti, e l'unica possibilità è questa, e costerebbe circa 30 milioni di euro. Attualmente la dotazione sospesa per la rimodulazione dei fondi Masterplan è di circa 10 milioni di euro per il SIN Alento Saline, il che significa che bisogna lavorare anche a programmare quella che sarà la bonifica definitiva, che altrimenti non potrà mai partire. Ecco perché noi chiediamo a distanza di un anno, documenti alla mano, scritti da chi si occupa appunto di ambiente, che questo inquinamento venga messo a termine, venga terminato definitivamente, con l'adozione di misure di sicurezza di emergenza.